buongiorno ragazzi vero che l'italia è il teatro per eccellenza siamo i migliori però questa veramente rasenta il ridicolo ve lo ricordate fico quando venne letto che andava col bus col bus guardatelo sotto con tre auto di scorta quanto sono furbetti questi quanto ci hanno preso in giro a me per primo ragazzi però la memoria per fortuna storica delle fotografie c'è e la fotografia risulta bene bella eclatante no